Ciao ragazzi, ben tornati in questa robesima media Oggi faremo ASMR La prima volta che lo faccio Vabbè, iniziamo E ora tocca fare qualcos'altro Speriamo che questo video vi è piaciuto Perché non posso fare tanto di video Però noi ci vediamo al prossimo video E domani c'è live Ciao